3, 2, 1 Eeeeh direi che possiamo andare Dai ragazzi mi raccomando in bocca al lupo a tutti Che vinca il migliore e soprattutto niente incidenti O comunque evitate gli incidenti Ne sei proprio sicuro Amos? Voglio dire pista nuova, incidenti dietro l'angolo Cittadino con curve da 260 km orari Curve che poi si fa per dire Non la vedo molto bene sai Non la vedo molto bene Ma magari il gioco regge dai Gale 2 ass, partite proprio da ass Ah brutta Quella staccata Un po' esagera, aia Si parte subito male Ok, molto bene E' finita la gara ragazzi No non è il Singapore, non c'entra niente con Singapore Occhio Ma no, ma no compagno No vabbè ma che è sta pagliacciata Eh, nooo non ci credo Ti prego Diego Diego, 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 Diego Passami, Diego, grazie Diego, Diego Torna subito alla transizione Altrimenti saremo penalizzati Non puoi sorpassare il regime di safety card Madonna santa Madonna santa Che meraviglia Questo è proprio un gioco fantastico Quando fa così Altro che le gare di drag race Ok andiamo Sicuramente si divertirà anche altrove No Stai distanziando l'auto alle tue spalle A ritmo di tre decimi a giro La macchina c'ha un Mamma mia Una difficoltà nel Nell'entrare in queste curve Con questa Ma vai Ok riduci la velocità Informano che la safety car uscirà a breve E vai Altre posizioni guadagnate Attenzione Attenzione Big brain E quindi siamo Senza aver fatto Orca misera Senza aver fatto niente Mi sono cagato sotto E dai Questo giro Oh Ma il bot No Vabbè Ma perché Dio che schifo di gioco Maronna santissima Benedetta Dell'incoroneta Io non ci posso credere Maronna santa Madonna santa Non ho fatto Che botta figa Non ci posso credere Ok le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse Puoi accelerare Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 2,7 secondi Tra quante curve arriverà di nuovo la safety? C'è stato un incidente con detriti sparsi Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo Quindi niente safety car per adesso Eccolo 3,2,1 No? 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 Col carico di carburante è comunque tosta eh Davanti è preso il la... Oh, 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 oh Ah Ok Va bene Non ricordo Manco più la zona indiresta è qua si Qua non puoi passare Semplicemente non puoi passare È inutile Cioè non dico aurus eh È inutile proprio pensare di poter passare qui E' inutile proprio pensare di poter passare qui La rotolata mi sa Aia 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 Non c'è più aurus Andra Se sei più veloce passa È la madonna Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro Oh la godo Si gode Si gode Si gode Si gode Si gode Via 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 Accelerare troppo nel terzo settore rispetta il delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box E invece voglio pressarla la safety car ok Madonna santa Via 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 Fregati 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 Ma che è successo dietro Bandere blu Per le auto blu Auto blu vuol dire solo corri No E luce blu quella Aia Incidente in pista ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora Fa attenzione Allora Abbiamo fatto Il giro 7 Il giro 8 Il giro 9 Il giro 10 Il giro 11 5 giri 5 giri su 16 5 giri su 16 Su 17 Attenzione Bern Ci difenderà all'esterno Attenzione non lascia spazio Bern Ma è la miseria però Oh cattiveria Ma com'è Andre si è ritirato Siamo già a 7 Ma Ma non è manco partita la gara Non è manco ripartita Ma che cosa hai fatto Ale Adesso proviamo a spingere ragazzi Adesso a parte di scherzi Proviamo ad andare Un po' più Tu più forte rischiando a Ci hanno informato che un incidente ha lasciato sulla pista un alto numero Ma va fa un cu Non è facile ingannare tutti sempre e ogni volta Non è facile Non è E non si può Con detriti sparsi Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo Quindi niente safety car per adesso Siamo solo in 5 Tutti qua La gara è mincente Riusciremo a fare la seconda parte senza safety car Allora 5 4 3 2 1 Non è vero No No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Che cosa è Ormai è un bug E' palese E' palese Ormai è palese E' bug Oh l'ha preso 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 Non vuoi entrare ai box Per cambiare l'ala Vediamo un po' cosa dite Allora sì Anche adesso lo dirà Orca puzzola Hai perso qualche decimo Oh Adesso anche uscirà Se esce anche adesso ragazzi Obiettivo tutti e cinque rimasti Addosso la safety car appena la vediamo Ok ci siamo intesi Facciamo un attentato Facciamo un agguato Un agguato alla safety car Promesso Qua dovrebbe arrivare Basta Gara finita Sei vicino alla safety car Ehi stai bene Vieni il motore Aspetta gli steward È stato un brutto incidente Oh dio È stata bella finché è durata Ma non è giusto Ha vinto Non è giusto No 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 Ha vinto lui Vabbè Ragazzi 50% di gara seria Senza safety car Fermi tutti Io ho terminato A meno 17 secondi Senza penalità Meno di 37 secondi Ho vinto io Grazie